Quando Katie ha 18 anni decide di incontrare i suoi genitori biologici, non sta più nella pelle. L'incontro con la sua famiglia naturale per lei è un momento di grande emozione, non vedeva proprio l'ora. Questa poteva essere una bellissima storia a lieto fine. Una ragazza sottata che si riunisce con i suoi genitori biologici dopo tantissimo tempo. Ma no, questa vicenda è tutt'altro che felice. Questa è la terribile e agghiacciante storia della famiglia Pladdle. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì, non so se sarà venerdì, comunque, sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio parlarvi di una storia davvero molto strana che vi farà sbloccare una nuova espressione facciale, come minimo. Ne avevo parlato sui reel qualche mese fa e molti di voi mi hanno chiesto di farci un video più approfondito qui su YouTube, quindi eccomi. Anticipo però che riguardo al contesto di questa vicenda, su internet non si trovano tantissime informazioni. In ogni caso, abbiamo fatto del nostro meglio per raggrupparle tutte e metterle in ordine. Prima di cominciare, però, come al solito, vi ricordo che su Pampling trovate le magliette che indosso nei video, come questa qui, e anche tantissime altre cose come felpe, calze, zaini, costumi, c'è di tutto. E le grafiche, come sapete, sono fighissime, io le amo. In descrizione, come al solito, vi lascio il link e vi scrivo la promozione della settimana corrente. Ricordate inoltre che inserendo il codice Andrew riceverete anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Detto questo, ragazzi, io direi di cominciare dalla persona al centro di queste vicende, ovvero Stephen Walter Pluddle. Stephen nasce il 6 aprile 1975 a Levittown, nello stato di New York, il classico soborgo americano. In realtà, uno dei primi, se non il primo. Infatti, Levittown è un soborgo costruito nel 1947, nel quale tutte le case sono uguali tra di loro. Tutte le strade si somigliano e vivono tutti nello stesso modo. Oggi conta circa 50.000 abitanti ed è sicuramente più inclusivo come quartiere. Però quando è stato costruito era riservato solo ai bianchi. Non lo so, già solo il soborgo in cui è nato Stephen mi trasmette molta tristezza e inquietudine. Sembrano tipo le backrooms, avete presente? Ecco. Non mi meraviglia che le persone che vivono in quei posti, in questi quartieri, diventino poi delle persone discutibili. Cioè, ti spingono ad impazzire questi posti. Anche se, vabbè, credo che in questo caso abbia giocato un ruolo molto importante il modo in cui è cresciuto Stephen. Purtroppo non conosciamo tantissimi dettagli della sua vita e soprattutto della sua infanzia. Sappiamo però che ha sempre vissuto con sua madre. Del padre, tuttavia, o del resto della sua famiglia in realtà, non c'è alcuna notizia su internet. Per fortuna un suo compagno di scuola delle medie e delle superiori ha rilasciato un'intervista anonima in cui ha raccontato un po' le sue impressioni su Stephen, nonché come veniva visto da lui e dai loro compagni di scuola. Stephen viene descritto come un ragazzo solitario e piuttosto strano. Al liceo, per questo, veniva preso di mira molto spesso da un gruppo di bulli. E uno dei motivi per cui veniva preso in giro è perché indossava sempre la stessa maglietta da hockey. Una maglia dei San Jose Sharks, una squadra di hockey locale. E quando dico sempre, intendo che Stephen aveva indossato quella maglietta ogni singolo giorno per tutto l'anno scolastico. Questa, per esempio, è una sua foto nell'annuale della scuola in cui, appunto, indossava quella maglietta. Ma non se la cambiava nemmeno durante le ore di ginnastica e questo inorridiva i suoi compagni che quindi lo emarginavano. Non che lui facesse nulla per integrarsi, ma sicuramente non era colpa sua, immagino. Il suo compagno, infatti, ha anche raccontato che durante la ricreazione, mentre tutti si riunivano per chiacchierare, stare insieme e svagarsi, lui se ne stava sempre in disparte. Non parlava mai con nessuno. Non aveva proprio nessun amico. Il che potrebbe tranquillamente indicare una situazione problematica in casa. Situazione di cui, però, purtroppo non sappiamo nulla. Comunque, Stephen, nonostante tutto, riesce a finire gli studi, ma dopo il liceo non riesce a trovare nessun lavoro. O meglio, non gli interessa neanche troppo trovarlo. Invece, si rinchiude in casa e si rifugia nel magico mondo di internet che a quei tempi era proprio agli albori. Ed è proprio su web che comincia a messaggiare con una ragazza che cattura non poco la sua attenzione. Il nome di questa ragazza è Alissa Garcia. E non ci sarebbe nulla di male in questo. Oggi succede tutti i giorni di incontrare nuove persone su internet. E sappiamo che può essere anche un buon strumento per trovare persone con interessi affini, fare amicizie, scoprire amori. All'epoca, però, non era proprio così. Era ancora tutto molto nuovo e la gente faceva fatica a fidarsi, giustamente. La novità spaventa. Infatti, alcune persone erano spaventate da questa cosa, da questa conoscenza tra i due. Tra un attimo ci arriviamo. Il problema, infatti, non è tanto che si fossero conosciuti su internet. Cioè, quello era il problema proprio minore. Il fatto è, invece, che Alissa aveva solo 15 anni, mentre Steven 20. E tra l'altro lei viveva a San Antonio, in Texas. Quindi da tutta altra parte rispetto a lui. Più di preciso a quasi 3000 km di distanza. Sono tanti. Comunque, nonostante la differenza d'età e la distanza, Steven e Alissa cominciano a messaggiare ogni giorno. E si trovano proprio bene a parlare. Tanto che ad un certo punto decidono di iniziare una vera e propria relazione a distanza. E la cosa si fa molto in fretta seria. Perché un giorno Steven decide di andare a trovarla. Prende un biglietto per San Antonio. E lì, per la prima volta, i due si incontrano. A quanto pare, dalle fonti a cui mi sono appoggiato, la famiglia di Alissa non era assolutamente d'accordo riguardo a questa relazione. I genitori della ragazza non volevano affatto che la loro figlia, 15enne, si impegnasse con un ragazzo di 20 anni che, tra l'altro, viveva così lontano da lei e che non conosceva nemmeno. Perché, appunto, l'aveva conosciuto su internet. Penso che ogni genitore avrebbe detto la stessa cosa. Questa relazione era un po' troppo strana. Ma, purtroppo, Alissa, giovanissima e, a quanto pare, innamorata, non voleva sentire ragioni. La ragazza, infatti, si invaghisce talmente tanto di Steven che finisce con di scappare di casa per andare a stare insieme a lui. Anche tutti gli amici della ragazza erano contrari. Eppure lei ha deciso di chiudere i ponti con tutti e trasferirsi lontanissimo da casa solo per poter stare con lui. E l'ha fatto a 15-16 anni. Una decisione, direi, piuttosto affrettata. Poi, non so se i genitori effettivamente l'abbiano cercata oppure no. Sembra di no. Ma non sappiamo esattamente la sua situazione in casa. Quindi, su questo, dobbiamo rimanere col dubbio. Fatto sta che i due, alla fine, vanno a vivere insieme. E lo fanno nonostante né lui, né tantomeno lei, che era ancora minorenne, avessero un lavoro. E dopo soli due anni, dall'inizio della loro conoscenza, Alyssa rimane incinta di Steven, quando ha solo 17 anni. Ragazzi, secondo me è tutta una gigantissima red flag. Ma non per Alyssa, che a quanto pare si trovava davvero bene con Steven. Almeno all'inizio. Il 29 gennaio del 1998, la ragazza dà alla luce una bambina che decide di chiamare Denise. Purtroppo, però, dal momento della nascita, le cose cambiano drasticamente. Alyssa e Steven, che prima si trovavano così tanto bene, cominciano a non essere più felici insieme. Innanzitutto, lui non era in grado di trovarsi un lavoro, di mantenersi un lavoro, perché veniva continuamente licenziato, per via del suo carattere, che era un po' irascibile. Lui era un po' irascibile, diciamo così. Ma purtroppo, c'è dell'altro. Come penso abbiate anticipato, Steven si rivela un uomo manipolatore e violento, specialmente dopo la nascita della bambina. Comincia ad alzare la voce per qualsiasi motivo, a lanciare oggetti per casa ed essere violento con Alyssa, ma non solo con lei. Dalla nascita della bambina, infatti, inizia anche ad essere violento con lei. Ma con la bimba, sembra che Steven tiri fuori la sua vera natura. Una natura spaventosa, anzi sadica, oserei dire. Per fare un esempio, detestava profondamente il pianto della neonata. Se Denise piangeva troppo, allora Steven la scuoteva, urlandole addosso. Oppure le dava dei fortissimi pizzicotti fino a lasciarle dei grossi lividi sulla pelle. In alcuni episodi, pur di non sentirla, ha addirittura rinchiuso la piccola in una borsa termica e in un frigorifero. Nonostante lei ovviamente continuasse a piangere e piangere, l'uomo poi aspettava fino all'ultimo momento prima di tirarla fuori da lì. Dei comportamenti davvero agghiaccianti, che non dovevano assolutamente passare inosservati. E infatti, per fortuna da quel momento, Alyssa capisce che non aveva più intenzione di lasciare sua figlia con Steven. E quindi prende la difficile, difficilissima decisione di darle in adozione. So che molti di voi ora si chiederanno, ma perché non se n'è andata con la bambina? Ecco, perché Steven era solito minacciare di togliersi la vita se mai lei l'avesse lasciato. E purtroppo, come ho detto prima, era un vero manipolatore. Penso inoltre che Alyssa si sentisse davvero sola in quegli anni e in quel posto. Era minorenne, vi ricordo. Non poteva trovarsi una casa in cui stare. Non poteva trovare un lavoro stabile. Non aveva nessun contatto con la sua famiglia ad ormai due anni. Però voleva comunque solo il bene per la sua figlia. Lei non poteva andarsene, ma poteva permettere a Denise di avere una vita migliore. Ed effettivamente la piccola trova di molto meglio. All'età di soli otto mesi, quindi tutto questo che vi ho raccontato è accaduto quando lei era ancora una neonata. Che schifo. Comunque a soli otto mesi viene adottata da una coppia. Una coppia composta da Anthony e Kelly Fusco. I due avevano già una loro figlia biologica, ma per il secondo figlio hanno deciso di prendere la strada dell'adozione. Per non si sa quale motivo. Una volta adottata, decidono di cambiare il nome di Denise e di chiamarla Katie. Più di preciso, Katie Rose Fusco. E da questo momento comincerò anche io a chiamarla col suo nuovo nome, che sinceramente è quello che le si addice di più. Che rispecchia la persona che poteva essere se non fosse stato per suo padre. Cioè, era Katie, lei. Non era Denise. Non apparteneva alla sua vita da Denise. Tra poco capirete il perché. Anzi, penso che l'abbiate già capito. Katie comunque inizia la sua nuova vita a Dover, una piccola città sempre nello stato di New York. Quando Anthony e Kelly adottano la piccola, sono al settimo cielo. Sentono che ora la loro famiglia è al completo e crescono la bimba con tutto l'amore del mondo. Non le fanno mai mancare nulla e nel complesso si può dire che la famiglia Fusco era una famiglia completamente normale. Anche se non mi piace usare questo termine, però avete capito cosa intendo. Il padre adottivo, Anthony, era un agente di pulizia che lavorava nel dipartimento penitenziario dello stato di New York. Mentre la madre adottiva, Kelly, faceva la segretaria. Come dicevo, una famiglia totalmente nella media. Una famiglia che però riesce a dare a Katie un'infanzia e un'adolescenza serenissime. Katie, avendo tutto il supporto della sua famiglia, riesce a sviluppare i suoi hobby e le sue passioni. Al liceo, per esempio, capisce di avere una fortissima passione per l'arte e per il disegno e, subito dopo il diploma, aveva l'intenzione di iscriversi all'università per studiare pubblicità digitale. Tuttavia, qualcosa non sarebbe andato come programmato. Qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la vita della giovane Katie. In quel periodo, infatti, a circa 17 anni, in lei nasce anche la voglia e la curiosità di conoscere i suoi genitori biologici. Anthony e Kelly, infatti, non le avevano mai nascosto di essere stata adottata. Ma solo in quel momento, in lei, è emersa questa forte curiosità. Arrivata a quell'età, voleva conoscere le sue origini, conoscere se stessa, capire da dove arrivava e chi le aveva dato la vita. Ci sta, è comprensibile. Ma ovviamente non si ricordava di quanto pazzo fosse suo padre. Era troppo piccola. Ad ogni modo, la ragazza si mette alla ricerca e non ci mette nemmeno tanto a trovare i nomi dei suoi genitori. Li trova su Facebook, pensate. O meglio, trova sua madre, Alissa, su Facebook. Intanto, però, in tutti questi anni in cui Katie era via, che cosa era successo a casa dei suoi genitori biologici? La risposta vi farà rabbrividire. Poco dopo aver dato in adozione Katie, Stephen e Alissa, i suoi genitori biologici, hanno deciso di continuare a stare insieme. Si sono addirittura sposati nel 2006, quando Stephen aveva 31 anni e Alissa 26. I due poi si sono trasferiti prima a Richmond, in Virginia, per poi cambiare idea e trasferirsi di nuovo, questa volta ad Enrico, nel North Carolina. E hanno anche avuto altre due figlie insieme. E lo so che vi state già ingazzando. Perché Alissa, dopo aver visto come Stephen trattava la loro prima figlia e dopo aver deciso di darla in adozione proprio per questo, ha preso la decisione di fare altri figli con lui. Chiaramente non era un buon padre. Le azioni che aveva commesso erano letteralmente tentato omicidio. Eppure, Alissa racconterà che in quegli anni, dopo l'adozione, lui sembrava essere cambiato. Cambiato tantissimo. Inoltre, il suo comportamento con le nuove bambine non era così terribile. Non come lo era con Katie. Appunto. Non era così terribile, quindi non provava ad ucciderle, ma in nessun modo era diventato un buon padre. Anzi. E non ha fatto altro che peggiorare nel corso del tempo. È diventato via via sempre più violento, soprattutto nei confronti delle nuove figlie, non nei confronti di Alissa. In un'occasione, per esempio, una delle due, che all'epoca aveva tre anni, quindi l'altra non era ancora nata, aveva bagnato il letto durante la notte. A tre anni. Ci sta. E lui, anziché comportarsi come una persona normale, le ha urlato in faccia, mentre lei piangeva. Poi l'ha presa e l'ha messa dentro la vasca da bagno, dove le ha detto di rimanere ferma in piedi. È stato solo dopo alcune ore, quando Alissa è tornata a casa da lavoro, che la piccola è potuta uscire e venire finalmente pulita e lavata da sua madre. Alissa ha raccontato che quel giorno, quando è arrivata a casa, ha visto sua figlia tremante dentro la vasca da bagno, ricoperta di urina, e appena l'ha vista le ha detto Mamma, posso uscire adesso per favore? Una scena davvero straziante e umiliante per la bambina, che ricordo aveva solo tre anni. Lui, veramente un mostro. Come vi dicevo, e come diceva Alissa, meglio rispetto a come trattava Katie, ma comunque un padre di merda. Non gli interessava proprio di aver lasciato la sua stessa figlia lì terrorizzata a piangere per ore. Che schifo, veramente. Come vi accennavo prima, comunque, anche a distanza di anni, Steven continua a far fatica a tenersi un lavoro, specialmente per via del suo comportamento piuttosto aggressivo. Il che obbliga Alissa a fare diversi lavori per poter mantenere tutta la famiglia. Quindi, mentre lei era fuori a lavorare tutto il giorno, le bambine stavano con Steven. Povere creature, veramente. Steven, infatti, in quel periodo, abusa di loro praticamente ogni giorno. È violento con loro. È cattivo. Quasi ogni giorno ha degli scatti d'ira durante i quali lancia oggetti per la casa, prende a pugni le pareti e urla in faccia alle bambine anche per le cose più piccole. Oltre a tutto ciò, cosa davvero preoccupante, Steven aveva come una passione per le armi. Ne aveva circa quattro o cinque. Molto preoccupante. Cioè, perché sono sempre queste persone strane e irascibili ad avere la passione per le armi? Che ansia! Comunque voglio raccontarvi un episodio che ve lo farà odiare ancora di più. Un giorno, il gatto dei vicini si è intrufolato dentro il garage di Steven e Alissa mentre gironzolava per il quartiere. E Steven, che per qualche motivo odiava i gatti, e già sei una brutta persona, anziché mandarlo semplicemente via, decide di colpirlo a morte. Ha usato le sue stesse mani e forse qualche attrezzo. Che schifo. Poi l'ha semplicemente buttato nella spazzatura. Fa riflettere il fatto che Katie, invece, fosse tutto il contrario di suo padre. Come vi accennavo prima, lei invece era una ragazza brillante che amava l'arte e amava gli animali. Infatti era vegetariana anche per questo. Quindi è curioso sottolineare quanto la genetica sia rilevante nello spiegare molti comportamenti, ma che in realtà l'ambiente che ci circonda quando cresciamo è la chiave di ciò che diventeremo dopo. Comunque, oltre a questa cosa schifosa del gatto, voglio dirvi un'altra cosa che vi farà incazzare. La stessa figlia che aveva lasciato sporca nella vasca per ore aveva delle difficoltà di apprendimento, non specificate. E Steven, solitamente, si riferiva a lei, a sua figlia, chiamandola ritardata, tarda o stupida. E questa era la situazione in casa. Quello che è successo mentre Katie era via. Situazione che ci fa chiedere perché Alissa non scappasse. E in effetti non c'è una vera e propria risposta. Si tratta di una relazione tossica e abusante, dalla quale, come sapete, è molto difficile separarsi. Steven era un bravo manipolatore. Probabilmente aveva fatto credere ad Alissa che senza di lui la sua vita non sarebbe stata semplice. Inoltre la minacciava, come al solito, di togliersi la vita qualora l'avesse lasciato. Insomma, non possiamo sapere cosa passasse per la testa della donna. Fatto sta che, ad un certo punto, con il peggiorare della relazione, Alissa decide almeno di mettere dei paletti e allontanarsi gradualmente. Dopo innumerevoli episodi violenti, i due cominciano a non dormire nello stesso letto. Steven dormiva sul divano, mentre Alissa nel letto di camera. Quindi, finalmente, c'è una sorta di distacco. Una prima divisione. Ed è nello stesso periodo in cui avviene tutto questo che Katie si mette alla ricerca dei suoi genitori biologici. La ragazza, come vi dicevo, ci mette poco a trovare sua madre Alissa su Facebook, dove decide di scriverle. Le due quindi cominciano a messaggiare quasi ogni giorno. E lo fanno per circa un anno. Periodo in cui parlano veramente di tutto. Della loro vita, della passione di Katie per l'arte, delle cose che avevano in comune, delle cose che invece non avevano in comune. Veramente di tutto. Quindi, trovandosi molto bene a parlare con sua madre, dopo circa un anno, Katie decide di andare a trovare lei e la sua famiglia. Nel giugno del 2016, dopo il diploma, e ad appena 18 anni, la ragazza prende un volo da New York alla North Carolina. E così incontra per la prima volta la sua famiglia biologica. Alissa è felicissima quando scopre che sua figlia sarebbe andata a trovarla. In 18 anni, non aveva mai smesso un solo giorno di pensare a lei. E l'idea di rivederla, dopo tutto quel tempo, la emozionava tantissimo. Katie quindi arriva lì, e conosce i suoi genitori biologici per la prima volta. E sorprendentemente, nonostante la situazione disastrosa in casa Pluddle, la sintonia che si instaura tra tutti loro è fin da subito molto forte. La ragazza rimane un po' di giorni lì, giorni in cui magari assiste anche a delle scene poco felici, ma pensando siano solo episodi isolati, non ci dà tanto peso. Anche perché immagino che Stephen si sia dato una regolata mentre era lì, Katie. Comunque la ragazza va subito molto d'accordo con sua madre e anche con le sue sorelline, che all'epoca avevano 11 e 7 anni. Ma stranamente, si trova bene anche con Stephen. Di nuovo, penso che abbia messo una sorta di maschera in quei giorni, perché altrimenti io non me lo spiego. Ad ogni modo, lì Katie passa delle giornate bellissime. Ama ogni momento passato con la sua famiglia biologica e quando torna a casa dai suoi genitori adottivi, prende un'importante decisione. Dopo averci pensato un po', informa Anthony e Kelly del fatto che volesse prendersi un anno sabbatico prima di iscriversi all'università. Un anno in North Carolina insieme alla sua famiglia biologica. Una decisione piuttosto avventata che sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma che non sono chiare nemmeno oggi. Al che comunque i genitori adottivi, non essendo a conoscenza della situazione tossica in casa Pladdle, le danno l'ok. Alla fine Katie aveva 18 anni, era una ragazza molto intelligente, sapeva il fatto suo, e se aveva deciso di prendersi un anno sabbatico per stare con la sua famiglia biologica, loro non potevano di certo impedirglielo. E infatti la supportano anche in questa decisione. Se solo avessero saputo un decimo delle cose che erano avvenute in quella casa, sicuramente non gliela avrebbero permesso. Purtroppo però non è andata così. E sebbene questa scelta di Katie abbia rattristato Anthony e Kelly, i due non potevano che essere felici per il fatto che lei si trovasse bene con i suoi genitori biologici. Quindi alla fine la ragazza fa le valigie e si trasferisce a casa di Steven e Alyssa. All'inizio le cose sembrano andare alla grande. Katie è felicissima di stare con le sue due sorelline biologiche ed è super emozionata di poter creare un legame con tutti loro. Ma le cose in questa storia prenderanno presso una piega veramente malsana. Dopo poco tempo il legame tra Steven e Katie, quindi padre e figlia, comincia a cambiare, a diventare sempre più intimo. Cosa che ovviamente Alyssa nota subito. E per questo motivo un giorno decide di prendere Katie da parte e rivelarle il vero motivo per cui 18 anni prima aveva preso la difficile decisione di darle in adozione. Le parla degli abusi di Steven e della sua paura che un giorno lui le facesse del male. Ma purtroppo le parole di Alyssa non sembrano smuovere qualcosa in Katie. E anzi pare che il suo rapporto con Steven da quel punto in poi si sia rafforzato ancora di più. L'uomo intanto comincia ad assumere un aspetto più giovanile. Si fa crescere i capelli, si rade la barba, si veste con magliette e jeans attillati. Parla e si comporta in modo diverso. Tutti questi segnali allarmanti sono avvalorati anche dal fatto che a pochi mesi dal trasferimento di Katie Steven ha cominciato a dormire sul pavimento di camera sua. Di camera di Katie intendo. Di camera di sua figlia. Cioè Alyssa vedendo la situazione che si era creata comincia seriamente a preoccuparsi. E un giorno prende da parte Steven chiedendogli perché sentisse il bisogno di dormire in camera di sua figlia. Ma la discussione si accende molto rapidamente e in risposta a lui le dice di farsi i cazzi suoi per poi uscire di casa sbattendo la porta. Nel novembre di quell'anno quindi del 2016 pochissimi mesi dopo l'arrivo di Katie Alyssa chiede ufficialmente il divorzio da Steven e si trasferisce insieme alle sue due figlie a casa dei suoi genitori. Così l'uomo rimane da solo a casa con Katie. A quel punto i due iniziano a passare tantissimo tempo insieme anche perché Steven non lavorava o comunque faceva lavoretti saltuari di qua e di là e Katie nemmeno lavorava dato che si era presa l'anno sabbatico no? Nei mesi successivi comunque le figlie di Alyssa rimangono a vivere dai nonni insieme a lei. Ogni tanto però passano anche alcuni giorni con Steven dato che il tribunale aveva dato la custodia ad entrambi i genitori. Alyssa però comincia a preoccuparsi ancora di più quando la figlia è più grande quella di 11 anni comincia a riferirle delle cose un po' strane su Steven e quando la donna inizia ad innagare scopre delle cose che la sconvolgono completamente. Sempre la figlia 11enne di Alyssa era solita tenere un diario segreto e un giorno sua madre mettendo a posto la sua stanza si è imbattuta proprio in questo diario che ha deciso di leggere. Purtroppo grazie alle parole di questa ragazzina Alyssa avrà la conferma a tutti i suoi dubbi riguardo al rapporto tra sua figlia Katie e il suo ormai ex marito Steven nonché padre di Katie. Sulle pagine di questo diario viene descritta in maniera molto dettagliata una relazione tra i due e nel leggere quelle parole Alyssa rimane scioccata. Dalle parole che leggiamo su queste pagine è chiaro che questa ragazzina non riuscisse a capire cosa cavolo stesse succedendo intorno a lei. Ad esempio in una pagina dice che la sua sorella maggiore Katie stava aspettando un bambino e che Steven si riferiva a quel bambino come suo figlio. Continua dicendo che d'ora in poi avrebbe dovuto chiamare Katie mamma perché doveva vederla come una madre e non più come una sorella maggiore. Oltre a questo in altre pagine ha disegnato Steven come se fosse Satana definendolo anche così e ha disegnato invece il bambino che aspettava Katie definendolo un demone. Alyssa dopo aver letto quelle pagine dà completamente di matto e chiama subito Steven per chiedergli spiegazioni ma lui con totale nonchalance le risponde che ora lui e Katie erano una coppia e che presto si sarebbero anche sposati nel sentire quelle parole Alyssa ha un tuffo al cuore chiede a Steven come abbia potuto fare una cosa del genere sottolineando che Katie era solo una ragazzina ed era sua figlia ma a Steven non importava proprio niente delle parole di Alyssa quindi le riattacca il telefono in faccia la donna a questo punto prende la saggia decisione di chiamare la polizia e denunciare tutto proprio tutto quanto parla degli abusi di Steven quando Katie era piccola e parla anche della loro attuale relazione incestuosa che probabilmente andava avanti dal momento in cui Katie era tornata a casa la polizia così si attiva e viene effettivamente aperta un'indagine indagine che però purtroppo non porta a nulla vengono anche interrogate le figlie di Steven e Alyssa per capire qualcosa in più ma né Steven né Katie vengono arrestati entrambi continuano a vivere insieme e continuano la loro relazione incestuosa come se nulla fosse e non appena il divorzio tra lui Steven e Alyssa viene ufficializzato lui può finalmente sposare Katie ripeto sposare Katie la sua stessa figlia ora io non so che cosa si è passato per la testa di Katie probabilmente era stata manipolata anche lei forse vedeva suo padre come una sorta di eroe una figura che comunque nella sua vita c'è stata ma sapendo che non era quella reale quella biologica non lo so si è creata quest'idea non lo so magari quando ha conosciuto quella biologica se ne è invaghita per qualche motivo non riesco a spiegarmelo sarà successo qualcosa comunque nella sua testa nella testa di una povera ragazzina di appena 18 anni ok intanto il 20 luglio del 2017 Katie e Steven quindi si sposano nel Maryland ma come sappiamo tutti l'incesto è illegale nella maggior parte dei paesi del mondo e quindi che cosa hanno pensato di fare Katie e Steven lei semplicemente ha deciso di dire il suo nome di adozione quindi Katie Fusco mentre Steven il suo vero nome Steven Pludel e così riescono a sposarsi illegalmente nonostante fossero indagati proprio per incesto vabbè al matrimonio tra l'altro sono anche presenti i genitori adottivi di Katie e la madre di Steven ci sono proprio alcune foto che li ritraggono tutti insieme sorridenti e questa cosa fa venire i brividi perché vediamo proprio che Katie è solo una ragazzina e la vediamo vicino a Steven che oltre ad avere più del doppio della sua età è anche suo padre e in tutto ciò lei è anche incinta di suo padre da diverso tempo si vede proprio benissimo dalle foto del matrimonio ci tengo a specificare comunque che i genitori adottivi di Katie nonostante fossero presenti quel giorno non erano d'accordo con quell'unione tuttavia avevano paura che se si fossero dimostrati contrari alla relazione Katie avrebbe smesso di parlargli e addirittura avrebbe tagliato i ponti con loro per sempre quindi hanno preferito presentarsi al matrimonio sorridenti pur di non allontanarsi dalla loro figlia tutto ciò comunque non ha senso ed è di una tristezza incredibile specialmente ragazzi sapendo com'era Steven che persona di merda che era Katie immagino che nonostante lo sapesse non aveva ancora visto questo suo lato malato e violento per questo ha deciso di non ascoltare sua madre Alissa quando gliene ha parlato non lo so supposizione mia questa comunque dopo il matrimonio Steven e Katie vanno a vivere insieme sempre nel North Carolina e il primo settembre del 2017 la ragazza dà alla luce un figlio per fortuna sanissimo che decide di chiamare Bennett sapete che nei rapporti incestuosi il rischio di fare figli con problematiche è più elevato rispetto a figli che nascono da coppie non imparentate ecco non è successo Steven e Katie comunque cominciano la loro nuova vita insieme a Bennett insieme al loro figlio ma sinceramente non so come fosse la situazione in casa o come si comportasse Steven con Bennett non c'è scritto da nessuna parte perché non c'erano testimoni sappiamo solo che a pochi mesi dalla sua nascita sia Steven che Katie vengono arrestati con l'accusa di incesto quindi sì alla fine vengono scoperti e vengono arrestati per questo alleluia viene effettuato il test del DNA che conferma la parentela tra i due e quindi entrambi vengono portati a processo con l'accusa appunto di incesto la custodia di Bennett intanto viene affidata alla madre di Steven in attesa del processo quello che dirà la difesa di Steven in tribunale è alquanto discutibile secondo me e infatti il suo discorso ha fatto parlare parecchio per questo preferisco riportarvi direttamente le parole della difesa sentite questo caso riguarda una ragazza di 18 anni che si presenta alla porta di casa di un uomo di 40 anni che sta attraversando dei momenti difficili con sua moglie hanno un legame perché sono biologicamente imparentati ma non si sono mai conosciuti prima di avere un rapporto sessuale lui si è produttamente innamorato di lei a tal punto da dimenticare di essere biologicamente imparentati queste sono state le parole dell'avvocato in aula parole che secondo me hanno un significato ben preciso ovvero che Steven non aveva nessuna colpa in questa storia poverino non era colpa sua se stava attraversando un periodo difficile con sua moglie e cavolo proprio mentre stava attraversando questo periodo difficile è arrivata sua figlia ancora adolescente che l'ha sedotto poverino no? cioè cosa ha fatto di male? insomma capisco che l'avvocato stesse semplicemente facendo il suo lavoro però qui tocchiamo argomenti molto delicati e ragazzi lo so è allucinante sembra un film ma anche grazie alla sua difesa in tribunale Steven riesce a cavarsela ed esce dal carcere a patto però che non contatti in nessun modo Katie Bennet intanto continua a rimanere sotto la custodia della madre di Steven e successivamente anche Katie viene rilasciata a patto che nemmeno lei cerchi in qualche modo di contattare suo marito barra padre Steven lei però decide di non rispettare le condizioni imposte dal tribunale e lo contatta lo stesso ma il motivo per cui lo fa non è per vedersi ma per dirgli che la loro storia da quel momento era finita Katie gli dice che vuole porre fine alla loro relazione in maniera definitiva penso che a questo punto lei abbia davvero aperto gli occhi su tutta la situazione magari il tempo passato lontano da Steven le ha davvero fatto vedere il quadro generale della situazione e capire quanto fosse sbagliato ma lui come già immaginerete non la prende per niente bene l'uomo dopo aver riattaccato si reca subito da sua madre che come abbiamo detto aveva in custodia Bennett il figlio di Katie e Steven e una volta lì le dice di voler prendere il bambino per far visita a Katie a New York ma purtroppo è solo una bugia non è per niente quello che aveva intenzione di fare la madre di Steven tuttavia si fida di suo figlio e gli permette di portare via con sé il bambino non sapendo però che le sue intenzioni erano ben altre e Steven quindi guida insieme al piccolo Bennett fino al suo appartamento e lì purtroppo gli toglie la vita lo soffoca poi chiude il suo piccolo corpo senza vita dentro un armadio e se ne va una decisione drastica solo perché Katie aveva deciso di lasciarlo ma non è tutto perché in quel momento la sua furia era solo all'inizio quest'uomo ve lo giuro non ha senso qualsiasi cosa che fa è sempre peggio cioè per esempio cosa cavolo c'entrava il bambino in tutto questo gli ha voluto dare la vita chi cavolo ti dà il diritto di toglierli là questa storia è semplicemente agghiacciante e lo diventa ancora di più subito dopo perché dopo l'omicidio del piccolo Steven sale in macchina e guida tutta la notte per 800 km fino ad arrivare alla casa dei genitori adottivi di Katie nello stato di New York dove in quel momento era tornata a vivere anche lei l'uomo conosceva bene la routine di Katie e sapeva bene quando lei sarebbe uscita di casa quando arriva a destinazione quindi si apposta fuori da casa sua in macchina e aspetta aspetta fino a quando non vede Anthony e Katie uscire insieme e avvicinarsi alla loro auto l'uomo continua a guardarli mentre loro mettono in moto e partono al che mette in moto anche lui e comincia ad inseguirli un inseguimento però durato molto poco perché appena Anthony e Katie si fermano ad uno stop lui li raggiunge accostandosi accanto a loro e senza dire neanche una parola apre il fuoco su tutti e due uccidendoli all'istante poi riparte un pompiere presente sulla scena chiama immediatamente il 911 e descrive agli operatori la terribile scena a cui aveva appena assistito intanto Steven guida fino al parcheggio di un hotel si ferma telefona sua madre e le dice di aver ucciso Bennett Katie e Anthony poi rivolge il fucile verso se stesso e fa fuoco pochi minuti dopo il 911 riceve una chiamata da una donna in stato di completo shock una donna che dice all'operatore che suo figlio aveva appena ucciso tre persone quella donna ovviamente era la madre di Steven vi metterei la chiamata ragazzi ma ogni volta che lo faccio youtube mi dà molti problemi quindi magari vi metto il link nella descrizione se la volete sentire non vi perdete niente se non la sentite le autorità comunque si dirigono subito a casa di Steven e purtroppo dentro l'armadio trovano il corpo del piccolo Bennett senza vita nello stesso momento a New York la polizia si trova davanti ai corpi senza vita di Katie Anthony e Steven tutti uccisi con colpi d'arma da fuoco all'interno delle loro auto questo caso è scioccante sotto ogni punto di vista è difficile riuscire ad esprimere delle considerazioni in merito e capisco che sia molto difficile anche non giudicare visto come sono andate poi le cose in ogni caso fatemi sapere che idea vi siete fatti voi se ve ne siete fatti una c'è poco da dire in realtà è una storia iniziata in maniera tragica per via dei maltrattamenti e finita in maniera ancora peggiore ovviamente in questo caso non c'è stato un processo quindi queste erano tutte le informazioni che siamo riusciti a mettere insieme se anche oggi quindi vi è piaciuto passare del tempo con me ricordate di lasciare un mi piace al video oppure un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di io e ora ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una persona a Kansas City che per troppo tempo è rimasta libera di fare ciò che voleva spero quindi che rimarrete nei paraggi iscrivendovi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao 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 Grazie a tutti.